Buongiorno e benvenuti alla Sera Stappa di oggi domenica 5 agosto e vediamo cosa c'è sui giornali di oggi, ve lo dico subito un po' noiosini, oggi si capisce già il clima preestivo, poi dopo scherzeremo su alcune cose che riguardano i soldi, l'economia, che sono le uniche cose concrete che forse uno si potrebbe aspettare dai giornali. Andiamo subito sul titolo del Corriere della Sera, rinvio vaccini, il Movimento 5 Stelle diviso. In realtà poi a leggere bene non solo il Corriere della Sera ma tutti i giornali italiani che parlano del rinvio nella non obbligatorietà dei vaccini perché il Ministro della Sanità che è una grillina ha detto oggi sui giornali guardate che sono obbligatori i vaccini, il punto fondamentale è che se non si fa l'autocertificazione e quindi non ci si vaccina si può l'anno prossimo andare comunque a scuola, quindi di fatto i Novax possono benissimo fottersene andare a scuola senza autocertificazione, senza scrivere il falso, non vaccinando i loro figli che è una cosa chiaramente gravissima, quindi in realtà non è un rinvio dell'obbligatorietà, è un rinvio del fatto che non si può andare a scuola senza certificato vaccinale, come si dice oggi con un brutto termine. Però la cosa divertente dal punto di vista politico è Movimento 5 Stelle diviso, una minchia. Sostanzialmente c'è uno del Movimento 5 Stelle che ha votato contro e già l'avevamo letto ieri sui giornali, anzi una parlamentare Movimento 5 Stelle e se ne è aggiunto un secondo che fa il direttore sanitario, faceva il direttore sanitario all'ospedale di Palermo e ovviamente essendo un medico come tutti i medici sa quanto sia folle questo rinvio dell'obbligatorietà dei vicini per entrare a scuola. Quindi più che diviso ci sono due su 350, non so quali sono i parlamentari Movimento 5 Stelle e sui 150 leghisti, sulla maggioranza di questo governo ci sono due che sono contrari. Per parlare di divisione sarei un po' attento, i giornali di questo comunque oggi parlano. Seconda notizia della giornata, forse anche corredata l'intervista di Salvini che vi consiglio su Repubblica, sta parlando ieri sul Foglio, intervista insomma non molto interessante, oggi un pochino meglio sulla Repubblica, dice ragazzi la manovra di ottobre, cioè la manovra fiscale che c'è di ottobre di ogni anno, sarà una manovra che vedrete che avrà degli sconti fiscali e delle altre grandi novità, perché se no, voglio dire, se non ci fosse qualche novità in questa manovra, beh allora sarebbero stati buoni tutti, dice Salvini in questa intervista a Milano Marittima dove stava a prendere il sole con la sua fidanzata Elisa Isoardi, piene foto su tutti quanti i giornali, lui che guida la moto d'acqua, la Isoardi che sale in camera, ovviamente c'è photo opportunity perché non sta a Capalbio, ma sta a Milano Marittima, non sta a Portofino, sta a Milano Marittima, non sta a Santropè, sta a Milano Marittima, grande populista, l'uomo che sta nelle spiagge, al papete che tutti amano. Vabbè, fatta questa lunga digressione, buongiorno a Marco e il tema, e Anna che vedo qua, che dice viva il nostro governo, ci sono molti fan di questo governo nella mia zuppa, beh Salvini che cosa dice? Allora, siccome noi ci dobbiamo distinguere da Letta e da Monti, vedrete che faremo una manovra tosta con dei veri sconti fiscali e sulle grandi opere, questa è la cosa sostanziale, mentre Doninelli fa un'intervista a un altro giornale in cui dice verificheremo entro fine anno se sono da fare o no, beh, insomma, invece Salvini va molto giù chiaro, dice sì alle grandi opere e quando gli obiettano un'altra cosa che oggi è su tutti quanti i giornali, cioè sembra una barzelletta, mentre uno sta, Salvini, a Milano Marittima, il leader, ex leader del Movimento 5 Stelle, Di Battista, detto Diba, dove sta a festeggiare i 6-40 anni a Porto Escondido, cioè Sebastica è una sceneggiatura di Birzi, Salvini al papete e quell'altro a Porto Escondido, e che cosa dice a Porto Escondido Di Battista? Dice no, dobbiamo continuare a dire no alle opere pubbliche, la no tap, la no tav, sono le nostre grandi battaglie, sprona i suoi colleghi di governo e Salvini dal papete di Milano Marittima gli dice ma che cavolo sta dicendo, anzi in maniera piuttosto divertente dice ho grande invidia per le sue vacanze, che tali non sono perché lui sta facendo un reportage fondamentale, ne abbiamo già letti due sul fatto, però parla ovviamente da ex militante, da grande militante del Movimento 5 Stelle. Terzo argomento di giornata è allora questa benedetta manovra che dice Salvini in intervista a Repubblica, che non sarà come quella di Monti Diletta, che cosa contiene? C'è l'esercizio di tutti quanti i giornali, Repubblica si inventa il piano segreto sull'IVA, cioè non se lo inventa, lo pubblicizza, voglio vedere se mai lo faranno, e cioè il piano segreto dell'IVA sarebbe che aumenterà l'IVA, voi sapete che se non si fa qualcosa nella manovra di ottobre dovrebbe aumentare l'IVA dal 22 al 24,5, dal 10 al 12% e anche dal 4 a qualche cos'altro, per portare a casa 12,5 miliardi di euro, se non si trovano 12,5 miliardi di euro si aumenta l'IVA. Allora cosa, Patrizia Orlandini dice, non rosicare troppo Nicola, non so su che cosa devo rosicare, certo non di stare a puerto escondito al papeta, io sto benissimo qua e non rosico fatto. Ciao a Maria Angela che ci scrivono e a Michela, viva il Movimento 5 Stelle. Allora che cosa dicono sull'IVA quelli di Repubblica? Che potrebbero aumentare una parte di IVA sui famosi beni di lusso e ridurla addirittura sui beni di largo consumo. Io non so come con questa logica si possa aumentare l'IVA a 12,5 miliardi, perché se aumenta l'IVA soltanto sui beni di lusso state certi che i 12,5 miliardi non si ottengono, per un motivo molto semplice che quando si aumenta l'IVA sui beni di lusso i beni di lusso non si comprano più, perché non sono beni, voglio dire, che si comprano obbligatoriamente. Se ti rendi troppo cari la gente scappa, l'abbiamo visto sui porti, l'abbiamo visto sulle auto, l'abbiamo visto sulle barche, ma questa stronzata spero che non ce la regali un'altra volta questo governo. Secondo me non la farà questa minchiata di aumentare l'IVA per alcuni e non per altri, anche perché poi alla fine l'IVA, essendo un'imposta indiretta, è aumentata per tutti, perché i settori che vedono l'IVA aumentata, è vero che il prodotto di lusso avrà l'IVA aumentata, il riccone verrà penalizzato, ma tutta la filiera che produce per quel riccone perde il lavoro. Sarebbe un bel colpo dopo il decreto dignità, ma l'altra vera cosa che mi sembra più verosimile della manovra di ottobre, più che l'aumento dell'IVA selezionato, come prevede oggi Repubblica, il piano segreto è la famosa flat tax, che verrà applicata, ne parlano tutti quanti i giornali, a un numero di professionisti pari a 500 mila. Quindi noi abbiamo 40 milioni di contribuenti in Italia, 30 milioni hanno un'imposta superiore a zero, 500 mila, cioè veramente pochissimi, avranno questa flat tax, che sarà in realtà l'estensione del cosiddetto regime forfettario che oggi si applica alle partite IVA che in maniera graduale hanno tra i 30 e i 50 mila euro di reddito all'anno. Già oggi le partite IVA tra i 30 e i 50 mila possono avere un regime forfettario per cui pagano il 15% di IVA. Siamo autorizzati noi italiani, c'è scritto in tutti quanti i giornali, ad aumentare questo regime forfettario fino a 65 mila euro, perché l'Europa ci deve dare il via libera, posto che ha a che vedere con l'IVA questo aumento del forfettone, ma il governo vorrebbe portarla a 100 mila, se così fosse sarebbe un vantaggio pare per mezzo milione di partite IVA, meglio che nulla ovviamente portiamocela a casa. L'altro tema fiscale secondo me molto interessante è quello che una specialista ormai Livini su Repubblica fa sulle tasse dei giganti sul web, ma questa è una storia stupenda perché ti fa veramente incazzare. Per un motivo semplicissimo Facebook, quella che mi sta ospitando, sapete quanto ha pagato Facebook quest'anno di tasse in Italia? Allora facciamo una scommessa, vediamo se qualcuno mi chiede quanto ha pagato, ve lo dico io, 120 mila euro. Facebook in Italia ha pagato 120 mila euro. Allora siccome questo è il pagamento di un professionista che guadagna in Italia 250 mila euro, cioè se un professionista in Italia guadagna 250 mila euro, paga 120 mila euro di tasse, l'idea che Facebook paghi 120 mila euro di tasse in Italia, dice beh insomma siamo veramente sicuri che c'è una tassazione corretta su questi giganti del web? Google in Italia paga 5,6 milioni di euro, 5 milioni di euro Google, sapete quanto fattura secondo il pezzo di Livini in Italia Google? Ve lo dico io, 1,2 miliardi di euro, c'è fattura 1,2 miliardi e paga tasse per 5 milioni. Allora, cioè se io fossi una partita IVA a 100 mila euro che paga 50 mila euro di tasse, beh insomma sarei un po' seccato di quanto pagano questi giganti del web. Poi uno dice le paga in America, le paga in Francia, no probabilmente le paga in Irlanda al 5% e allora è obiettivamente un elemento per capire come cavolo tassare meglio questi giganti del web, bisognerebbe porselo in maniera non populista, però insomma 120 mila euro di tasse pagate in Italia da Facebook con quello che raccoglie di pubblicità forse è too much. Sulla legge Mancino, che è una chiara legge liberticida, lo scrivo oggi sul giornale ma sapete che io non parlo dei miei pezzi, leggetevi soltanto il BB e Bibo, cioè i due punti di vista contrari che ci hanno sul fatto quotidiano pro legge Mancino Montanari, un comunista di quelli così e contro la legge Mancino Massimo Fini, un pezzo molto intelligente, fu Massimo Fini peraltro a incavolarsi con Oriana Fallaci quando scrisse i suoi famosi libri sull'Islam perché Massimo Fini disse che Oriana Fallaci era una razzista e citò proprio la legge Mancino in virtù della quale la Fallaci fu indagata nel 2005. Oggi però Massimo Fini sul fatto dice che la legge Mancino è liberticida perché anche le idee più orrende, più incredibili, più sbagliate che siano si possono pure esprimere e io sono totalmente d'accordo con lui. Il Parlamento in ferie, messaggero di oggi, ha fatto, va in ferie nei prossimi giorni, ha fatto un tour de force, poteva evitarselo sul decreto dignità, quella cagata pazzesca che ridurrà i posti di lavoro in Italia, in quattro mesi il Parlamento dei nuovi, dei giovani, dei freschi, degli anticasta, di quelli che vendono l'aereo, di quelli che vanno in macchina, scusatemi, in autobus, in Parlamento, succede due volte perché adesso c'hanno la macchina blu, c'hanno gli autisti, c'hanno le scorte, questo Parlamento di nuovi, sapete quanto è seduto ha fatto? 38, 38 in quattro mesi. Allora se voi lo valoraste con lo stesso ritmo oggi sareste dei, non dei precari, sareste dei fannulloni, oggi cita tutti i giornali, mi sembra il messaggero, il licenziamento grazie al cielo dei sei custodi della Regia di Caserta che accusavano il nuovo sovraintendente della Regia di Caserta, nominato da Franceschini, di lavorare troppo e furono pizzicati a non lavorare loro mai. Il Ministero li ha licenziati. Oggi molto interessante, ultima cosa che vi segnalo mi sembra di oggi perché sono i temi di giornata estivi, sono la fuga da Forza Italia. Fino ai giorni scorsi si era parlato della Lega che stava prendendo un po' di peso, ieri è stato il giorno in cui si diceva che Forza Italia invece si rafforzava con nuovi esponenti che chissà da dove prendevano, oggi Libero fa un'inchiesta in cui dice che in molti stanno andando via da Forza Italia consiglieri regionali, signori delle tessere, dei voti che stanno andando nei confronti della Lega. Allora qua però fatemi fare una piccola distinzione perché è evidente, una cosa se da Forza Italia se ne va gente tipo Piero Tatarella, ragazzo di 35 anni che prende i voti a Milano, non ha mai fatto politica in vita sua e rappresenta un territorio, quindi un giovane che ha pensato che Forza Italia potesse essere il futuro dei liberali, dei moderati, degli antiprotezionisti, di coloro che volevano ridurre e quelli che non si riducono soltanto alla battaglia per la presidenza della RAI. Se quelli se ne vanno via da Forza Italia, ovviamente per Forza Italia è della linfa vitale che se ne va via, ma poi se leggi che se ne vanno via da Forza Italia i vecchi democristianoni che se ne sono fatte tutte, il PSI, il PSDI, Forza Italia, il Pentapartito, il Porco Giuda, il Partito degli Olivetti, se vedi che se ne vanno via quelli allora dici ragazzi chi se ne frega, voglio vedere se Salvini se li prende, ma detto questo chi se ne frega? Cioè si deve un po' distinguere la Forza Italia che frana tra i giovani dirigenti che mi sembra che siano allontanandosi dal partito perché non gli stia dando nulla e tra l'altro Tatarella se ne sono dimenticato nel bel pezzo di Libero e i Nino Marmo con tutto il rispetto che se sono fatti 50 pattuglie nella loro vita dalla DC Pugliese ai Partito Socialista Pugliese immagino e che oggi se ne vanno via da Forza Italia, sarà un po' diverso se ne vanno via gli uni o gli altri. Direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela e che altro vi voglio dire? Nicolaporro.it per tutte le informazioni della giornata e mi raccomando fate un salto a papete perché non vi può mancare un selfie con Salvini o se avete tempo andate a Puerto Escondido dove beccate Di Battista che sta facendo dei reportage pazzeschi. Ciao!